Mercoledì 22 novembre, giornata mondiale della filosofia. Sembra quasi una contraddizione in termini in un mondo diventato programmatico, crudile, un mondo che assolutamente sembra aver perso il filologico del ragionamento. Abbiamo in linea un filosofo, un professore, uno che la sua vita l'ha dedicata alla filosofia. Questo mondo riesce ancora a pensare a se stesso o a ripensarsi? Certo, perché in realtà la filosofia non è mai stata qualcosa di estremamente popolare. Il pensiero è stato quasi sempre osteggiato, soprattutto il libero pensiero. Oggi come oggi fa ancora più difficoltà ad affermarsi perché è chiaro che il pensiero critico è sempre un pensiero che ostacola determinate decisioni, eccetera, perché occorre riflessioni. Non mi sembra che questo momento storico consegni all'umanità spazi di riflessione. Non li concede, diciamo. E quindi è quanto mai importante invece tornare a riflettere. Senti Antonio, questa frase che mi dici mi fa pensare a questa cosa. Io ti dico dei nomi che mi vengono così in mente a caso. Socrate, Platone, Aristotele, Pitagora, Sant'Agostino, Hegel, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard. Sono nomi che hanno cambiato la loro società. Pensatori che hanno inciso sull'andamento del pensiero e della vita. Oggi questi nomi, secondo te, fra 100 anni, fra 300 anni, ci sarà qualcuno che ricorda i nomi di oggi? Penso di sì, penso di sì. Comunque sia, vedi, c'è una frase di Hegel, una metafora bellissima che lui fa, che la filosofia è come l'uccello della notte, la nottola, che si leva in volo solo quando la notte finisce. Quindi noi, la filosofia è il momento in cui l'essere indaga se stesso, comprende se stesso e quindi è una cosa molto importante. Ma siccome appunto l'essere è in un continuo mutamento, eccetera, è chiaro che se noi vogliamo descrivere la giornata di oggi, dovremo aspettare la sua notte, il suo compimento. Quindi sicuramente adesso ci sono voci importantissime. Io in questi ultimi anni seguo in Italia, ci sono pensatori straordinari come Galimberti, per esempio. Io in questi ultimi anni seguo molto Byung Chul Han, il nome e il cognome suggeriscono origini orientali, infatti è un coreano che però ha preso sede, vive in Europa e insegna a Berlino, quindi nella grande tradizione filosofica europea. E lui fa delle riflessioni sul presente che sono sicuramente illuminanti, bellissime, straordinarie. E la filosofia del passato è un kit fondamentale per la nostra intelligenza, per la nostra coscienza, per il nostro cuore. Le teorie scientifiche, eccetera, sono importantissime, modificano il mondo e la nostra posizione sul mondo, ma chi è che veramente riesce ad ancorarci alle cose che viviamo, alla vita completa, alla nostra esistenza, è soltanto il filosofo. Ancora una volta e non c'è distanza fra le grandi vette raggiunte dal passato. Una parola di Platone, un'illuminazione di Aristotele, Sant'Agostino, rileggetevi Sant'Agostino, rileggetevi Montenna, rileggetevi tutti, rileggetevi Seneca. In questo momento io sto, per esempio, dialogando a distanza con un mio amico e parliamo della De vita beata di Seneca. Pensate, è una rilettura che facciamo di un testo sullo stoicismo. Quanto mai è attuale la finestra stoica su un mondo così sconvolto, così disordinato, così terribilmente opaco come quello che stiamo vivendo adesso.